Lottano tra loro e tirano il mio debole cuore in opposte direzioni, da una parte l'amore dall'altra l'odio ma credo vince l'amore. Ti odierò se potrò altrimenti ti amerò mio malgrado. Anche il toro non ama il gioco eppure porta il gioco che odia. Fuggo dalla tua infedeltà ma mi riporta indietro la tua bellezza. Detesto la tua condotta colpevole ma amo il tuo corpo così non riesco a vivere né con te né senza di te e mi sembra di non sapere che cosa voglio davvero. I versi che hai appena ascoltato appartengono a una delle leggie più note del poeta latino Ovidio. Ma chi era Ovidio? Quale mistero si nasconde nella sua vita? E perché la sua opera rappresenta al tempo stesso l'acme e il termine della breve esperienza e legiaca latina? Scopriamolo insieme in questa prima video lezione. Ciao, oggi parliamo di Ovidio che fra i poeti e legiaci sicuramente è quello dalla personalità più complessa per vari motivi. Innanzitutto perché ha praticato anche altri generi letterari, tra l'altro è stato lui a introdurre nella letteratura latina il poema mitologico, ma anche perché all'interno dello stesso genere legiaco Ovidio opera come un virtuoso, nel senso che opera una mescolanza dei generi e uno svuotamento delle legia di cui avremo modo di parlare. Tra l'altro la sua produzione è molto abbondante e Ovidio in un certo modo si fa cantore della società contemporanea, a differenza per esempio di un Virgilio che, come sai, guardava molto al passato. Ma parliamo un po' della sua vita. Nasce nel 43 a.C. a Sulmona da una famiglia di ceto equestre, piuttosto benestante, tanto è vero che Ovidio può svolgere i suoi studi superiori di retorica presso i maestri più celebri dell'epoca, sia a Roma che in Grecia. Questo elemento della formazione retorica di Ovidio va ricordato perché la retorica avrà molto peso nella sua produzione letteraria. molto giovane entra a far parte del circolo di Messalla Corvino, quindi stringe amicizia con Tibullo, Properzio, ma conosce, sappiamo, anche Orazio e non sappiamo invece molto sui suoi rapporti con Virgilio. La sua prima produzione è una produzione elegiaca e comprende innanzitutto Li Amores, che pubblica intorno al 20 a.C., in una prima edizione in cinque libri, poi opererà lui stesso una riduzione in tre libri, che è quella che poi ci è pervenuta. Poi abbiamo le Eroides, intorno al 15 a.C. circa, e rappresentano una novità nell'ambito elegiaco, perché sono delle lettere indistici di eroine del mito, appunto da qui il titolo, indirizzate ai loro amanti. La famatoria, che è l'opera forse più scandalosa di Ovidio, si colloca fra il primo a.C. e il primo d.C. Ma Ovidio è famoso soprattutto per i Metamorfosi, il poema che gli ha dato la grande notorietà, scritte nel periodo fra l'1 e l'8 d.C., così come nello stesso arco di tempo si collocano i fasti, altra opera più impegnata, più impegnativa sicuramente. Ora, l'8 d.C. è sicuramente una data, uno spartiacque nella vita di Ovidio, perché è l'anno in cui Ovidio viene condannato al relegazio. Non era esattamente un esilio, perché non comportava un processo, non comportava la confisca dei beni, e comportò però per Ovidio il bando delle sue opere dalle biblioteche pubbliche. La relegazio gli venne combinata dallo stesso Augusto. I motivi per cui Ovidio venne condannato a questa pena sono tuttora avvolti nel mistero, ma su questi torneremo. Ovidio continua a scrivere anche, diciamo così, da questo esilio, che sconta fra l'altro in una località sperduta dell'attuale Romania, cioè Tomi, che oggi si chiama Costanza. Anche appunto in esilio lui continua a scrivere e le sue opere ritornano in un certo qual modo a quella che era la forma originaria della elegia. La parola elegos vuol dire poesia del pianto, perché l'elegia nasce come poesia funebre. E qua scrive appunto i libri dei tristia, cioè le tristezze, e successivamente le epistule ex ponto, che scrive appunto nel periodo successivo fino alla morte, che avviene nel 17 o nel 18 d.C. Che cosa sappiamo effettivamente di questa relegazio a cui fu condannato Ovidio? Sostanzialmente quello che Ovidio stesso ci racconta. Innanzitutto vedi nella cartina dove si trova Tomi, l'attuale Costanza, quindi molto lontana rispetto a Roma, è un'area marginale di quello che ormai si era configurato come un vero e proprio impero. Ovidio ci parla in questo brano tratto da Tristia, di duo crimina, quindi due crimini, Carmen e Terror. Leggiamolo insieme. Perdi derint cum me duo crimina, Carmen e Terror, alterius facti culpa silenda miei. Nam non sunt tantì renovut tua vulnera Cesar, quem mi mio plus est indoluis semel, altera par super est, quaturpi carmine factus, arguer ob scenì, doctor adulterii. Due crimini mi hanno perduto, un carme e un errore. Di questo debbo tacere qual è stata la colpa. Infatti non valgo tanto che io debba riaprire le tue ferite. O Cesare, è già troppo che tu abbia sofferto una volta. Rimane l'altro per il quale mi si accusa di essermi fatto, con un carme osceno, maestro di impudico adulterio. Allora, soffermiamoci un attimo sul Carmen. Il Carmen è quasi sicuramente l'Ars Amatoria, che, avremo modo di vedere insieme, effettivamente rappresentò uno scandalo nel momento della pubblicazione. Scandaloso fu anche il suo successo, perché è un'opera fra quelle legiache che ha avuto una grandissima diffusione fin dall'inizio, ma che era chiaramente in contrasto con quelle che erano le direttive, o quantomeno gli ideali del mos maiorum, che Augusto stava cercando piuttosto vanamente di rispolverare e riportare nella coscienza dei romani. È curioso però il fatto che, all'epoca della condanna, l'Ars Amatoria fosse stata pubblicata già da almeno sette anni. Quindi, appare piuttosto tardiva questa condanna. Se non che, ecco, l'otto dopo Cristo è anche l'anno in cui viene condannata all'esilio anche la nipote di Augusto, e cioè Giulia Minore. Già la madre di Giulia, la figlia di Augusto, era stata pochi anni prima condannata all'esilio per la sua condotta immorale. Bisogna ricordare che, a partire dal 18 avanti Cristo, il Princeps aveva emanato una serie di provvedimenti, le cosiddette leges julie, a tutela della moralità, che prevedevano fra l'altro la condanna all'esilio per il reato di adulterio e sanzioni contro il celibato. Ma quale è stato il ruolo di Ovidio nello scandalo di corte che portò all'esilio di Giulia Minore? La risposta si trova, forse, in alcuni versi dei Tristia. Perché ho visto qualcosa? Perché ho reso i miei occhi colpevoli? Perché, senza volere, sono stato complice di una colpa? Ovidio, quindi, si sarebbe trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato, diventando l'involontario testimone della dissolutezza che Giulia, come la madre, aveva portato all'interno della stessa casa di Augusto. Bene, a questo punto non rimane che leggere insieme alcuni brani tratti dalla produzione elegiaca di Ovidio e capire perché con Ovidio l'Elegia raggiunge il suo massimo sviluppo, ma al tempo stesso il suo termine. Ma per questo ti rimando alla prossima video-lezione. A presto! Grazie! Grazie!